cari amici vi racconterò la storia di un magico paese immerso in verdi boschi per giochi avventurosi i cui vicoli di pietra racchiudono la memoria di quello che è il paesello di castro de volsci nei giorni del natale per tutta la città moltissimi sapori vorrete degustare se desiderati amici sorrisi e attività alla locanda della topa dovrete stazionare nelle festose vie del borgo la gioia regnerà il paese una magia del natale scriverà in questa grande storia invitiamo tutti voi qui a castro de volsci per un in natale insieme a noi alla locanda della topa vi aspettano i topini tre libatezzi antiche piatti contadini sono già pronti olio piccante sale e pepe e intanto tutto il borgo diventerà presente